In primo piano le notizie sull'epidemia e soprattutto sui vaccini. Secondo le rilevazioni di Open Data pubblicate stamani su ilsole24ore.com la Regione Abruzzo sarà la terza in Italia a raggiungere l'immunità di greggio. L'ultima media mobile a sette giorni di dosi somministrate ogni giorno sul territorio regionale è infatti di 12.265. A questo ritmo ci vorrebbero due mesi e 14 giorni per coprire l'80% della popolazione vaccinabile. L'obiettivo sarebbe raggiunto il 22 agosto prossimo. Stessa data prevista per l'immunità di greggio in Lombardia. Meglio dell'Abruzzo stanno facendo soltanto la Campania dove l'obiettivo sarà raggiunto il 16 agosto e la Puglia con la data del 20 agosto. Anche ieri è stato superato il target quotidiano delle dosi da somministrare in Regione. A fine giornata il totale è stato di 12.622 che ha portato il numero delle inoculazioni dall'inizio della campagna a 890.875. cioè il 94,6% del totale delle dosi consegnate è anch'esso dato più elevato della media nazionale e tra i più alti d'Italia. È salito infine a 307.655 il numero degli abruzzesi vaccinati cioè che hanno ricevuto entrambe le dosi oppure il monodose Johnson & Johnson.